Buongiorno ragazzi, benvenuti nella nostra umile bottega, noi qua facciamo la pittura e il restauro dei carretti. Se vi avvicinate vi faccio vedere una ruota, sapete che in un giorno ve la faccio fare tutta gialla e non solo gialla, pure decorata. Mi serve buona volontà, mi serve la passione. Che meraviglia, non pensavo venisse così. Hai visto? Questo quando tutti ci mettono la passione. Grazie. Andiamo alla ruota che vedremo a passione.